buon soire bienvenue questo è il caffè le folie berger oh mondia che cosa fate ancora lì fuori ma prego entrate fatevi trascinare via dalla vostra quotidianità uscite dall'ordinario esprimetevi con noi alle folie berger non si è mai spettatori ma solo protagonisti perché la storia più importante da raccontare è la vostra se non siete convinti entrate e passate la serata con noi alle folie berger bonsoir buon soire benvenuti al bar dell'ipoli berger salve desiderate qualcosa di cui parlare? oh guardi sarebbe magnifico oh bene le nostre specialità sono le minoranze le minoranze? sembra magnifico cos'è questa conversazione qui? faccia vedere a quelli del football potete parlare dell'incontro di sabato o dei più grandi campionati mondiali ehm no no e sente invece questa cos'è? a vedere a quella è la filosofia ah ed è uno sport? no è più un tentativo di trovare una verosimile ipotesi sul significato della vita eh queste sono idee magnifiche ti va di discutere un po' cara? certo perché no? quindi filosofia per due? eh sì ma come iniziamo? oh moncele volete che vi dia l'avvio? ah guardi le saremo molto grati bene vedete nel corso della storia uomini e donne hanno cercato di trovare una soluzione al mistero dell'esistenza oh carino e noi chiamiamo queste persone filosofi oh ed è di questo che parleremo? esattamente oh carino vedo che afferriate il concetto vi lascio queste diciamo cartelle per aiutarvi con la vostra discussione oh carino mi riprendi il menu? oh prego sì e buona conversazione grazie mille molto gentile grazie mille